Un sipario chiuso. Improvvisamente, da un lato del tendone, si intravede il volto di un ragazzo che scruta in platea. La platea è gramita di persone. Si nota nettamente un posto vuoto. Dal volto del ragazzo scende una lacrima, che si trasforma in uno spettacolo di danza straordinaria. Gli applausi del pubblico in sala sono fragorosi. Il ragazzo osserva ancora la platea e nota che quel posto dal primo vuoto ora è occupato dalla persona attesa, che applaude e sorride di gioia. Gli applausi del pubblico in sala. Gli applausi del pubblico in sala. Grazie a tutti.